ciao oggi voglio parlarti dell'ascolto del cuore perché è così importante ascoltare il tuo cuore perché il tuo cuore è un organo fisico quindi tu lo puoi sentire dentro il tuo corpo anche se non dovessi avere i canali aperti se non dovessi essere sensitivo e tieni conto che il tuo cuore è connesso con la saggezza superiore e con la saggezza divina quindi il tuo cuore ti dice sempre la verità non mente mai questo è un è un ottimo consigliere quindi se nella tua vita ci sono tutta una serie di situazioni che non ti piacciono e magari perché tu in qualche modo almeno quelle che hai scelto non le hai scelte ascoltando il tuo cuore ma puoi recuperare puoi recuperare perché è qualcosa che è veramente importante per la tua vita in quanto se tu continui a scegliere o con la mente o con i dovrei o con sarebbe giusto fare questo piuttosto che qualcos'altro ti allontanerai da quello che è veramente importante per te e quindi questo non potrà farti sentire bene se il fine è proprio quello di sentirti bene sentirti appagato sentire che sei nel posto giusto che fai le cose giuste che ti fanno sentire bene che ti fanno sentire un senso nella vita allora è importante che tu inizi da subito ad ascoltare il tuo cuore è molto molto semplice e te lo farò sentire nel prossimo video ti racconterò bene come funziona l'ascolto del cuore intanto quello che ti posso dire è di fare un elenco delle situazioni della tua vita dove non ti senti propriamente a tuo agio oppure una serie di scelte che magari nel prossimo periodo è importante per te fare portare avanti alle quali magari non sai dare una risposta non sai scegliere allora magari comincia a chiedere a una persona un'altra persona ma non è così che funziona devi sempre scegliere tu un abbraccio e buonissima giornata iscriviti al canale